E adesso è il momento dei ragazzi, è il momento di Alice Taylor. Ciao a tutti, mi chiamo Alice. Noi creiamo dei giocattoli stampati in 3D. Noi abbiamo iniziato così a un evento dei maker e abbiamo poi cominciato a vendere questi giocattoli e praticamente sta andando avanti. Adesso vediamo com'è questa storia, se funziona questo telecomando. Eccolo, ecco, noi volevamo introdurre la stampa magica in 3D per i giocattoli. Io, come ho studiato per esempio i videogiochi, sappiamo come sono gli avatar, adesso abbiamo però non solo avatar online, ma abbiamo anche dei giocattoli assolutamente reali. E volevamo in effetti creare degli oggetti virtuali per poi creare degli oggetti fisici. È possibile per esempio creare un avatar, come facciamo su Video Game, con un'app. E poi l'avatar viene messo dentro questa stampante. Usiamo questo tipo di struttura. Comunque abbiamo una macchina stampante in 3D professionale che costa più di 150.000 euro. I brevetti dovrebbero scadere e probabilmente il prezzo scenderà molto rapidamente. Questo è il risultato, ecco, dei giocattoli co-creati. A parte ogni bambola è unica, è unica, assolutamente, tutte diverse. Queste quattro sono i personaggi del nostro gioco. Hanno tutti i nomi degli ingegneri. Per esempio io avevo il Lego, avevo i computer e avevo anche gli orsacchiotti, ma mai le bambole. Comunque volevamo avere delle bambole per ragazze che non fossero solo rosa e che non fossero solo abbigliate come alcune bambole che vediamo. Per esempio abbiamo questi strani personaggi, le abbiamo create a logo, le assembliamo, le mettiamo nelle scatole. Ognuna è unica e in effetti non sono giocattoli. Perché è importante? Perché abbiamo anche una certificazione della sicurezza delle bambole e noi abbiamo avuto la possibilità di avere il marchio CE per l'Europa e per il Medio Oriente. Però usiamo il nylon che viene utilizzato, della stampante. Praticamente può essere utilizzato per qualunque tipo di materiale, coltelli, ma anche per giocattoli. Eccola! Io mi sono laureata nel mondo digitale, io usavo, creavo giocattoli, giochi, mi scuso, digitali e adesso siamo passati ai giocattoli. Comunque molto spesso i giocattoli vengono fatti in Cina e invece la progettazione digitale viene fatta da un'altra parte. Questa è la storia di come venivano creati i giocattoli e negli ultimi trent'anni nel 95% dei casi giocattoli vengono fatti nell'Estremo Oriente e solo attraverso una grande cooperazione abbiamo potuto lavorare insieme anche grosse aziende. Allora, una delle prime cose che è avvenuto è che è stata creata un'immagine messa sul internet e poi è stato ricreato un giocattolo. Questo è il tipico negozio di giocattoli. Allora, perché la Barbie? La Barbie è così famosa perché dappertutto, per esempio, non so dove sia questo negozio, però probabilmente è molto simile a quello che è a Londra, è proprio lavoro, per esempio se dovete fare molta concorrenza anche a grandi multinazionali come la Mattel bisogna pagare tutto, la stessa cosa avviene per la concorrenza con il Lego e normalmente non vediamo mai i giocattoli dei maker o delle start-up in negozi tradizionali come questo. La personalizzazione, la co-creazione è molto importante. Se vogliamo creare una bambola abbiamo degli strumenti, è possibile inviarli in Cina ed è possibile avere centinaia di migliaia di pezzi che arrivano in magazzino, poi vengono assemblati e poi si spendono tanti soldi per il marketing. La American Girl lo fa. Per esempio, hanno 40 versioni di una bambola ed è possibile scegliere quelle che assomiglia di più a voi. Questo è un modo molto costoso per fare la personalizzazione. Cosa abbiamo fatto noi invece? Abbiamo messo il nostro progetto sulla rete quando avevamo già una demo. Generalmente, per i giocattoli, ma usiamo le bamboli, è più semplice, ci vogliono 4 anni per costruire una dal concept allo scaffale. Invece in questo caso abbiamo praticamente raccorciato moltissimo la filiera. Abbiamo cercato di utilizzare il software, usarlo direttamente per creare un prodotto che poi veniva utilizzato e avere dei feedback. E abbiamo fatto gli esperimenti man mano che siamo andati avanti. Allora abbiamo iniziato con le bambole bianche, invece abbiamo, per esempio, bollito il nylon in, per esempio, vernici industriali nel caffè, nel tè, nelle fragole. E poi abbiamo creato praticamente dei modelli, degli abiti. E poi abbiamo avuto dei feedback dalla rete. E poi è possibile avere una condivisione. Abbiamo fatto degli esperimenti, è incredibile quello che siamo riusciti a ottenere. Abbiamo lanciato, per esempio, il colore della pelle, oppure questi personaggi molto interessanti. Questa signora, per esempio, ha creato un'casetta usando praticamente dei cassetti dell'IKEA. e poi abbiamo anche creato praticamente la possibilità di avere una robotizzazione delle bambole, perché abbiamo delle schede elettroniche all'interno. C'è una signora che si chiama Katia che voleva creare appunto queste bambole particolari che avessero un po' un aspetto dei cartoni animati giapponesi e potesse assomigliare un po' a un gatto. Abbiamo inserito le nostre bambole a Selfridges, che è una grandissima catena, un grandissimo negozio a Londra un anno fa. Comunque stiamo imparando quello che vuole la gente, quello che si aspetta la gente. Per esempio, i bambini giocano con quello che è stato creato da un avatar per ore, poi sono i genitori che chiedono cosa vuol dire la stampa in tre dimensioni. Comunque noi abbiamo fatto un grosso viaggio con questa catena. Quali sono le nostre aspettative per il vero e proprio mercato? Allora, dovremmo avere un prezzo basso come quello della Cina, al momento sappiamo che per adesso costa di più stampare in 3D, però probabilmente la stampa tridimensionale non andrà a sostituire, per esempio, le tecniche industriali che sono così veloci, però è qualcosa di nuovo che può essere fatto per creare dei prodotti completamente nuovi. Poi lanciare un nuovo marchio è molto difficile, per esempio quando Lego ha lanciato Friend Pink hanno lanciato praticamente milioni di dollari per il lancio e in effetti sappiamo che le start-up non possono competere, è molto difficile, cioè non c'è soluzione, la nostra soluzione è stata di costruire un gioco e lavorare per esempio con le catene per poter far vedere i nostri giochi. Ovviamente l'attenzione è quella di avere la possibilità di competere, anche con i grandi è avere l'attenzione giusta per creare degli avatar. Per esempio è possibile far sì che i ragazzi possano creare gli abiti e anche gli accessori delle loro bambole, grazie a delle stampanti 3D a casa in modo tale che le persone possano creare i propri giocattoli, gli abiti, gli accessori e anche la casa delle bambole. Per me questo è il modo più creativo che non è possibile assolutamente avere quando compri un giocattolo da un negozio tradizionale e questa è la cosa interessante. Allora, sapevamo che avevamo qui in cima a questa curva la stampa in 3D, sappiamo che poi abbiamo tante altre tecnologie. Quest'anno invece c'è una piccola differenza. Allora, ancora non abbiamo una stampante tridimensionale in ogni casa, però sta diventando sempre più popolare è possibile andare sicuramente su internet per avere accesso a questo tipo di tecnologia. Allora, non c'è bisogno di chiedere permesso, non bisogna chiedere a una società di giocattoli o a una società di moto o a una società di barche. Con internet, con queste macchine in rete è possibile iniziare a fabbricare subito. Noi raggiungiamo persone, soprattutto in America, il 60% del nostro traffico viene dagli Stati Uniti, però abbiamo inviato delle bambole, anche a Singapore, in Ecuador, tutte le barriere si stanno abbassando, la miniaturizzazione dei cip e dei prezzi. Significa che i progetti possono avvenire. è una magia, è una magia e potete costruirvela da sole. Sappiamo che è possibile cambiare il mondo proprio di fronte a voi e i bambini possono veramente diventare dei maker per creare delle cose che la mia generazione non ha potuto fare né immaginare. Infatti vediamo questa bambina che comincia a pensare uh, io voglio fare questo, quest'altro e quest'altro ancora. Ecco quest'altra bambina che ha cambiato il mondo. Grazie. Dobbiamo anche ringraziare Massimo, grazie allo zio Arduino. Sono curioso di una cosa riguardo il nome di tua figlia. E quindi anche Fibonacci, perché Fibonacci? Abbiamo scelto Posi per Edgar Allan Poe, Emeline per Politica, Fibonacci perché il suo nonno è un professore di matematica. Come la chiamate? Ah, Posi. Ok.